E gli altri bambini dello zecchino come sono? Sono antipatici, vero? Bravi, sono... Alcuni sono un po'... No, tutti... Alcuni... No, tutti sono bravi. Sì, ma alcuni sono tutti bravi, però se proprio dobbiamo dire qualcosa... Ma che sono tutti bravi. Io ne ho visto qualcuno che era un po'... Ma che... E che mi ha detto che tu non eri simpaticissima, tra l'altro. Seriamente? Seriamente, guarda che seri che sono. Adesso sai questa cosa, vero che anche a te qualcuno si dà un po' antipatico? No. Adesso che ti ho detto che qualcuno che ha detto che sei un po'... Sì. Vero? Te ne sta un po' antipatico? No, no. Nessuno è antipatico, anche se mi dicono... Tu sei cicciona. Eh. Sei cicciona. Io sono cicciona.